Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Dopo l'interesse riscontrato nel tutorial precedente dove vi parlavo dell'armonizzazione delle scale maggiori con gli accordi a tre voci, cioè le triadi, in questo nuovo tutorial vi parlerò degli accordi a quattro voci e scopriremo insieme come riconoscerli, costruirli e suonarli nella maniera più semplice e veloce che io conosca. Non vi resta altro che seguirmi con il cambio in quadratura. Ed eccoci qua con questo cambio in quadratura che molti di voi sarebbero già abituati a vedere, con le grafiche e il software che mette in evidenza i tasti che vado a pigiare e sul pentagramma le note che vado a suonare, oltre che le siglature degli accordi sulla mia destra, faccio una piccola ma importante premessa nella quale per capire bene questo tutorial è importante che voi sappiate molto bene la differenza di tono, di semitono, cioè gli intervalli e le triadi maggiori, minori e diminuite, perché noi ci basiamo proprio su queste cose qua. Quindi se ancora non avete ben chiaro questi argomenti vi invito a seguire altri miei video tutorial fatti in precedenza o a documentarvi o a essere seguiti appunto da un insegnante o un percorso formativo che vi permette di avere appunto questa conoscenza, se no questo video vi risulta molto complesso da capire. Inoltre vi ringrazio per i commenti che sto ricevendo nei miei video tutorial e nei miei video in generale, vi invito sempre a commentare anche con eventuali critiche costruttive che permettono a me di migliorare e di sapere cosa trattare nei miei prossimi tutorial. Quindi continuate a farlo, seguitemi, attivate la campanellina e commentate condividendo anche questi video con altri vostri amici conoscenti e perché no altri musicisti e colleghi. Il confronto fa sempre bene alla crescita. Ok, partiamo subito con gli accordi a quattro voci che ci basiamo sulle triadi maggiori, minori, diminuite. Ecco, per capire bene questi accordi a quattro voci che sarebbero l'accordo di settima maggiore, settima dominante, settima minore, settima semidiminuita, settima diminuita. Questi sono gli accordi che andremo a incontrare basandoci sempre sulla scala diatonica di Do maggiore per far maggior chiarezza e non complicarci la vita. Poi questi accordi si possono trasportare sulle dodici tonalità, un po' come abbiamo fatto anche con le triadi ammonizzando la scala di Do maggiore nel precedente tutorial. Quindi partiamo subito col primo accordo che è un Do maggiore settima che è formato da una triade maggiore di Do maggiore più l'aggiunta di una quarta voce che è sul settimo grado della scala di Do maggiore. Quindi primo, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto, settimo, è un Si in questo caso. Ed è nient'altro che una terza maggiore, fate attenzione, una terza maggiore partendo dalla terza voce dell'accordo della triade maggiore, ovvero si sale di due toni. Quindi se noi prendiamo un accordo semplicissimo di Do maggiore, una triade, e gli aggiungiamo un suono salendo di una terza maggiore, ovvero salendo di due toni, abbiamo appena costruito, ricavato e scoperto questo accordo, che è un Do maggiore settima, che a sua volta è un accordo costruito sulla tonica dell'armonizzazione della scala di Do maggiore, un'armonizzazione questa volta a quattro voci. Noi questo accordo lo troviamo sul primo grado, lo troviamo sul quarto grado dell'armonizzazione della scala di Do maggiore e lo troviamo anche sul... no, niente, lo troviamo sul primo e sul quarto grado. Ok. Ora, per andare a scoprire nuovamente sempre questo accordo in un'altra maniera, possiamo dire che questo accordo è la fusione di due accordi, una triade maggiore, lo eseguerò con la mano sinistra, cioè un Do maggiore, più un altro accordo minore. Adesso andiamo a vedere quale. Sulla nota modale di questa triade di Do maggiore vado a costruire una triade minore, un Mi minore in questo caso, perché la nota modale di Do maggiore e il Mi, ecco qui, che se noi uniamo questi due accordi, che sono differenti, perché un Mi minore e un Do maggiore, uniti insieme formano un accordo di Do maggiore settima, molto curiosa come cosa. Ecco qui, che per maggior chiarezza si potrebbe dire così, si potrebbe fare così. Dato che il Do maggiore e il Mi minore hanno in comune il Mi e il Sol, io vado a eliminarli con la mano sinistra, vado a fare magari un raddoppio di tonica, cioè di Do nella mano sinistra, ed ecco qui che appena realizzato il mio accordo di Do maggiore settima. Spero che sia abbastanza chiaro il concetto. Come vado a suonarlo questo accordo? Col primo, col secondo, col quarto e col quinto dito? Oppure possiamo anche sostituire, in certi casi, il quarto dito dal terzo, quindi primo, secondo, terzo e quinto dito. Ovviamente abbiamo cinque dita, quattro voci, se non è zuppa è pambagnato, non è che ci si può fare tante combinazioni di diteggiature. Suonato in questa maniera, ovviamente non è che lo troviamo sempre suonato così durante i brani, anzi è ritmato, è arpeggiato e anche solo due di queste voci. Possiamo trovare anche solo il Do e il Sol nella mano sinistra e il Mi e il Si nella mano destra. Anche questo è un accordo di Do maggiore settima. L'ho molto aperto, vedete? Si possono trovare veramente in diversi modi. Magari farò un video dedicato su questo argomento, di come suonare questi accordi in diverse maniere. Sono infinite le maniere che possiamo suonare gli accordi. Qua si parla di armonia, basandoci sull'accordo, tutti gli accordi che andiamo a affrontare appunto sono sul Do, poi possiamo trasportarli su tutte e dodici le tonalità. Quindi, scoperto come andare a costruire appunto questo Do maggiore settima, ora andiamo ad abbassare di un semitono discendente la quarta voce, ovvero il nostro Si, lo abbassiamo su Si bemolle, e abbiamo appena costruito sempre una triade maggiore, cioè Do maggiore, ma siamo saliti di un tono e mezzo dalla terza voce, ovvero di una terza minore questa volta. Prima la terza era maggiore e adesso una terza è minore. Questo accordo si chiama settima dominante. Abbiamo appena scoperto e costruito un accordo di Do settima dominante, che lo troviamo armonizzando la scala di Do maggiore sul quinto grado. Eccolo qua, il quinto grado della scala di Do maggiore è un Sol. Perché questo quinto grado è settima dominante? Si chiama dominante anche perché Sol, il quinto grado si chiama dominante della scala, no? Ogni grado ha un suo nome. Ha un suono proprio particolare di tensione. Sentite che suono particolare? E poi non è costruito col Fa diesis, perché il Fa diesis non è inerente alla scala di Do maggiore, ma al massimo è alla scala di Sol maggiore questo Fa diesis. Quindi il Fa deve essere nella tonalità, quindi è naturale. Ebbe quadro, no? Questo Fa. Quindi la costruzione, ricavandolo dall'armonizzazione della scala di Do maggiore, quindi sul Sol, è un accordo costruito da una triade maggiore più salendo di una terza minore dalla terza voce. Trasportiamo questo Sol sul Do. Eccolo qua. Che a sua volta non è nient'altro che la fusione di due accordi. Andiamoli a vedere. Sempre nella mia mano sinistra eseguirò un Do maggiore. Parto dalla nota modale, come ho fatto in precedenza. Costruisco un accordo con la quinta diminuita. Quindi, mentre prima era un accordo minore, Mi minore, adesso è un Do diminuito. Scusate, prima era un Mi minore e adesso è un Mi diminuito sulla mia mano destra. Quindi la fusione di questi due accordi, Do maggiore e Mi con la quinta diminuita, Mi minore, quinta diminuita, quindi accordo diminuito, forma un accordo di Do settima dominante. Facciamo la stessa cosa che abbiamo fatto in precedenza. Togliamo le note che sono in comune, che sarebbero il Mi, che è in comune con la mano destra. Quindi lo togliamo nella mano sinistra. Il Sol, che è in comune con la mano destra, e lo togliamo nella mano sinistra. Raddoppiamo la tonica. Eccola qua. Ecco qui che abbiamo l'accordo di Do settima dominante. Facciamo un passettino indietro. Do maggiore, settima. Abbasso di un semitono la quarta voce, ovvero il settimo grado. Do settima dominante. Guardate anche ricavandolo in terze. È un accordo composto da una terza maggiore, più una terza minore tra il secondo e il terzo suono, più un'altra terza minore tra il terzo e il quarto suono, cioè la terza e quarta voce. Eccolo qua. Ora, il prossimo accordo che andiamo a scoprire, basandoci su questo accordo, è l'accordo di Do minore settima. Andiamo a vedere come. Abbassiamo la nota modale questa volta. Qual è la nota modale? Il Mi, che diventa Mi bemolle. Un accordo costruito sul primo, sul terzo, sul quinto, sul settimo grado di una scala minore, scala diatonica minore, genera un accordo minore settima, che non è nient'altro che un accordo, una triade minore, che sappiamo già fare, se avete visto il video precedente e altri tutorial precedenti, sulla costruzione degli accordi, appunto, delle triadi, più l'aggiunta di una terza minore dal terzo suono. Quindi, eccolo qua, il nostro do minore settima. Questo accordo si può trovare armonizzando la scala di do minore, l'armonizziamo anch'essa a quattro voci, e lo troviamo sul secondo grado, cioè su un re. Lo troviamo sul terzo grado, cioè un Mi, e lo troviamo anche sul sesto grado, cioè un La. Quindi, noi possiamo andare a costruire e ad armonizzare tutta la scala, e abbiamo il Re, minore settima, il Mi, minore settima, e il La. Anche in questa maniera. Andiamo anche a ricavarlo nell'altra maniera, che, alla mano sinistra, costruisco un Do minore, una triade minore. Questa volta sul Mi bemolle, perché la nota modale è il Mi bemolle, sulla mano destra vado a costruire un accordo maggiore. È interessante sempre che un accordo minore più una triade maggiore genera un accordo di settima, in questo caso minore. Quindi Mi bemolle maggiore sulla mia mano destra, Do minore nella mia mano sinistra, vado a eliminare le note che sono in comune con la mano sinistra, che sarebbero il Mi bemolle e il Sol. Vado a raddoppiare la tonica, per fare maggior chiarezza sulla tonica e non avere la tonica distante. Eccolo qui, Do minore settima. Piccolo passo indietro come ripasso. Quindi abbiamo visto il Do maggiore settima, Do settima dominante, Do minore settima. Andiamo avanti così, stiamo sempre riducendo, stiamo sempre stringendo la mano e abbassando di semitono in semitono ciascun grado. Ora andiamo ad abbassare il quinto grado della scala, ovvero la terza voce dell'accordo, ovvero in questo caso il Sol. Lo abbassiamo di un semitono discendente e abbiamo appena realizzato, scoperto e suonato l'accordo semidiminuito. Do semidiminuito. Settima sempre. Sempre accordo a quattro voci. Questo accordo è composto da una triade, un accordo composto da tre voci diminuita, quindi Do diminuito, più una terza maggiore basandoci sulla terza voce dell'accordo, cioè sul Sol bemolle. Salgo di una terza maggiore, ovvero salgo di due toni ed ecco qui che ha il nostro Do settima semidiminuita. Questo accordo si può scoprire armonizzando sempre la scala di Do maggiore e lo si incontra sul settimo grado, cioè il Si. Ed è semidiminuita, fate attenzione a questo nome. Molto probabilmente perché tra poco a breve costruiremo l'accordo diminuito. Se questo è semi poi ce ne sarà uno proprio diminuito. Quindi Do semidiminuito, che a sua volta non è nient'altro che una triade minore, scusate, diminuita sulla mano sinistra, quindi Do diminuito, col Mi bemolle e Sol bemolle, e una triade minore sulla mano destra, Mi bemolle minore. Ok, tolgo le due note in comune come ho fatto con i precedenti accordi, che sono il Mi bemolle e il Sol bemolle, raddoppio la tonica, eccolo qua, e il mio bell'accordo semidiminuito, composto dal Do, Mi bemolle, Sol bemolle, Si bemolle. Ok, abbiamo stretto sempre di più questi accordi. Andiamo a vederli di nuovo da vicino. Siamo partiti da un Do maggiore settima, Do settima dominante, Do minore settima, Do semidiminuita. Adesso cosa vado a abbassare? Visto che stiamo procedendo abbassando gradi, 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 andiamo a abbassare la quarta voce, il settimo grado. Il Si bemolle mi diventa abbassata ulteriormente, perché dal Si, che siamo partiti sul maggiore, siamo scesi di bene un tono, ovvero sul sesto grado della scala, e là il sesto grado della scala. Abbiamo appena scoperto l'accordo di Do diminuito, settima, Do settima diminuita. Ed ecco qui che con un accordo composto da un accordo diminuito, da una tre delle diminuita, più una terza minore dal terzo suono, cioè dal Sol bemolle salgo di una terza minore, ovvero salgo di un tono e mezzo. Guardate bene come è composto. Anche questo nella mia mano sinistra eseguo un accordo diminuito, più un altro accordo diminuito basandoci sulla seconda voce, cioè la nota modale, cioè il Mi bemolle in questo caso, la fusione di questi due accordi, diminuito più diminuito, raddoppiando la tonica, togliendo i due suoni in comune, come abbiamo fatto in precedenza, genera un accordo diminuito. Questo era l'ultimo accordo che abbiamo scoperto in questo tutorial, spero in maniera chiara. Quindi andiamo a vedere anche a costruirlo per terza. Abbiamo una terza minore, un'altra terza minore e poi un'altra terza minore, tutte terze minori. Ok? Abbiamo abbassato tutto, praticamente. Partendo dal Do maggiore settima, settima dominante, settima minore, settima semidiminuita, settima diminuita. Abbassando, abbassando, abbassando. Tutto questo discorso possiamo realizzarlo su tutte le dodici tonalità, eh? Quindi noi per maggior chiarezza abbiamo preso come esempio, come scala modello, quella di Do maggiore, armonizzando anche la scala di Do maggiore, ma noi possiamo trasportarlo su tutte le dodici tonalità. Come diteggiatura, naturalmente, come accennavo prima, possiamo mettere 1, 2, 4, 5, 1, 2, 3, 5, a seconda di come siamo comodi e alle situazioni in cui andiamo a trovarle durante i brani, l'esecuzione. Poi dipende da tante cose. Noi un accordo, appunto, possiamo trovare anche così. Spezzato su due mani, questo è un Do maggiore settima, ho fatto, l'ho diviso, no? Su due mani, in questa maniera. Possiamo trovarlo ritmato, in infiniti maniere. Magari fatemi sapere nei commenti se volete un ulteriore video dove vi spiego come magari suonare questi accordi. Qualche esempio per suonare questi accordi a livello pratico applicato su dei brani, eh? Qua si parla in questo video di armonizzazione, di armonia, di studio, di realizzazione dell'accordo suonato in uno stato diretto, tra l'altro, non è rivoltato, quindi ci sono tante altre maniere di suonare l'accordo, infinite maniere, quindi fatemi sapere, insomma, se volete ulteriore video che tratto questo argomento. Come? Vi chiedo proprio di farmi sapere se l'argomento trattato l'ho trattato in maniera facile e veloce per essere compreso un po' alla portata di tutti. Io spero che sia stato abbastanza chiaro, vi auguro un buono studio e grazie al prossimo video. Non dimenticatevi di seguirmi attivando la campanellina per tenervi sempre aggiornati nei miei prossimi video. Ciao!